Mi avete fatto chiamare, signore? Sì, Uriel. C'è un caso per te. Un allievo? Esatto. Si chiama Claudio. E dove vive? In Italia, a Roma. Roma! È molto tempo che manco da Roma, signor generale. È una bellissima città. Allora ti farà piacere tornarci. È un posto dove ci hanno sempre tenuto in grande considerazione. Come avete detto, che si chiama questo mio futuro allievo? Si chiama Claudio.